Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Fuzzi-Mib che a fine giornata segna più 1,04%, a 16.922 punti. In rialzo tutte le principali piazze europee. Francoforte chiude a più 2,02%, Parigi più 1,40%, mentre Londra segna più 0,95%. A Piazza Affari contrastate le banche, con Unicredit in rialzo più 1,52% e BPM in rosso meno 1,07%. Vola il comparto industriale, con in testa Pirelli a più 4,06%. Lo spread fra Bund e BTP chiude la settimana a 263 punti, in leggero calo sull'apertura.